È stato trovato il soccorso lungo l'autostrada del Sole dalla polizia stradale di Arezzo. Adesso fortunatamente 13esimo è salvo e cerca una famiglia. Questa volta è andata bene, quindi bisogna stare tutti più attenti. È un pericolo sia per chi viaggia in strada che ovviamente per l'animale che rischia la vita. Il cucciolo infatti è stato notato dagli agenti poco dopo l'area di parcheggio Romita Ovest in direzione sud. Era imporito ed affamato, non è stato semplice avvicinarlo, con il terrore che il cagnolino potesse scappare improvvisamente ed attraversare la strada. Ma con molta pazienza gli agenti sono riusciti a farlo avvicinare e salvarli. Era un po' intimidito dalla situazione, forse le macchine, un po' la confusione, però qui si è sciolto abbastanza velocemente. Tredicesimo, così è stato provvisoriamente ed ironicamente ribattezzato il cucciolo perché proprio ieri è stata pagata la mensilità aggiuntiva. Si tratta di un cane maschio con ancora i denti da latte. Almeno tre quarti di cane da pastore mare in mano e per l'appunto è un cane che anche va saputo gestire perché ha dei bisogni e delle motivazioni di razza particolari. Adesso è stato affidato alle cure dei volontari dell'EMPA di Arezzo in attesa di essere adottato da una famiglia. Chiaramente prima dovranno passare i giorni che un eventuale proprietario possa cercarlo visto che è un cucciolo anche se ha l'età che già dovrebbe avere il microchip però a volte purtroppo capitano delle sviste quindi se nessuno lo ricercherà cercheremo di trovargli la migliore sistemazione in una famiglia adatta.